bene buonasera, vediamo adesso Unity 2021 quindi io ho scaricato e installato la versione 2019 4.18 ed è su questa che faremo i video ma quanto vedremo sarà comunque uguale anche per le altre versioni uso questa al momento solo perché consentendo una nuova interfaccia dal 2019 3 di avere dei fondi più grandi permette una resa un po' più efficace nei video tutorial quindi se volete seguirmi esattamente come sto facendo dovete installarvi questa LTS LTS vuol dire che è la versione stabile che è presentata qui una volta installata vedete che io ho installato anche il WebGL Support perché magari faremo qualche piccolo esperimento di WebGL e la versione Android che potrebbe essere utile per scaricare ad esempio su VRChat anche se su VRChat bisognerà poi usare una versione più vecchia quindi per il momento facciamo tutto in locale giusto per impararci lo scripting di Unity ora l'altra cosa che ho fatto è di installare Visual Studio Code Visual Studio Code è un programmino abbastanza semplice che è disponibile fatto da Microsoft Visual Studio Code e ve lo consiglio perché rispetto al Visual Studio normale che c'è con Unity questo signore è decisamente più veloce quindi soprattutto per noi e occupa anche un pochino meno spazio su disco quindi andate in Download vi scaricate e vi installate il Visual Studio Code vi ricordate dove l'avete installato e adesso io tra l'altro consiglio sempre di usare soprattutto per chi non quindi Studio Code quindi abbiamo credo che si chiami Code.exe Code.exe a me me lo sono installato qua sotto vedete Code.exe G Program Files Microsoft EBS Code perché ve lo dico perché tra poco dovremo dirgli a Unity di usare questo signore allora torniamo in Unity andiamo sui progetti io ho fatto già alcuni esperimenti che poi eventualmente vi farò vedere ma partiamo da zero quindi prendiamo il 2019 418f1 che è uno degli ultimi gli diamo un nome in questo caso lo chiamiamo video tutorial gennaio 2021 creiamo sul 3D questo progetto e adesso andiamo poi a costruire su questo progetto tutto ciò che ci serve per lavorare l'obiettivo di di questo piccolo registrazione è adesso di fare il setup quindi ci contenteremo solo di creare il progetto e di verificare che ci sia il collegamento con Visual Studio Code nel prossimo video nei prossimi video vedremo come anche lavorarci sopra quindi costruire dei piccoli script come sempre succede in Unity e noi siamo sempre in tempo reale purtroppo dobbiamo aspettare che lui ci importi tutto ok allora io qui ho già fatto questa distinzione in Unity nel senso che rispetto al normale ho messo il game di sotto in basso a destra perché mi trovo un pochino meglio alcuni tra l'altro la hierarchy la mettono a fianco nell'inspector e facciamola anche noi mettiamola praticamente qui no mettiamo ecco a fianco perché? perché conviene con la hierarchy averla a fianco nell'inspector perché poi le parti della hierarchy vengono poi mescolate dentro dentro le varie cose che ci interessano quindi noi abbiamo come abbiamo già visto varie volte gli assets e noi costruiremo sugli assets tendenzialmente in maniera flatta giusto per semplicità anche se poi conviene che voi mettiate poi tutte le cartelle nel posto giusto ora guardate un attimo che chiudo questa finestra quando io vi ho detto che usiamo Visual Studio Code cosa vuol dire Visual Studio Code? vuol dire che nelle preferenze che è qua sotto Edit Preferences andiamo negli External Tools e come vedete tra le varie opzioni c'è Visual Studio Code Visual Studio Code lo cliccate e poi vi chiede adesso qui non me lo fa vedere perché l'ho già fatto di andare a cercare dove è il file quindi voi in quel momento vi interessa sapere dove era il punto exe tenete conto che Unity è nativo con Visual Studio Code anche nel senso che se gli mettete Visual Studio Code lui si predispone automaticamente e lavora e lavora abbastanza bene con questi strumenti qui lui vi dice di installare anche queste cose ma non sono fondamentali quindi per il momento lasciamo così ora come facciamo a sapere che abbiamo configurato Visual Studio Code andiamo sugli Assets e come dicevo adesso creiamo tutto in maniera piatta e creiamo un C Sharp Script e questo qui lo chiamiamo Prova vedete che Prova ha creato questo scriptino che si chiamerà come il nome del file quindi Prova e facendo doppio click si apre e vedete ha la velocità abbastanza della luce cioè praticamente in un secondo o due abbiamo il nostro script aperto ricordiamo che se si usava il Visual Studio normale non questo code che è una versione ridotta il tempo poteva essere anche dell'ordine di 20 secondi 30 secondi a seconda del vostro computer quindi diciamo che adesso avendo impostato questa situazione nel prossimo video vedremo come impostare un minimo di interfaccia utente e soprattutto quello che mi interessa di questo corso farvi vedere i pannelli i pannelli e la GUI in generale per il momento è tutto per questo video a più tardi che è un'altra che è un'altra